Il venerdì ci sarà una trasmissione dalle 18 alle 19 con Pietro Pietro con Musica Viva Farete insieme a lui un viaggio nella musica beat e prog Io ringrazio il mio bellissimo e paziente fonico Lorenzo Loddo che è stato qui accanto a me e Massimiliano Morgante per lo spazio che mi ha dato per questa trasmissione Noi ci ritroviamo qui la prossima mercoledì prossimo alle ore 16 con un nuovo cantante e vorrei parlare di Tupac Ci ritroviamo sempre qui su Sounds Good Radio Roma Futura Ciao a tutti! I don't wanna wait and wait for your love I don't wanna wait and wait for your love From the very first time I placed my eyes on you dear My heart says follow through But I know now that I'm way down on your line But the way to feel is fine Ciao! Ciao! Come a tutti! Grazie a tutti